Questo programma è offerto da GoCartv.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni E oggi amici di GoCarttv si tornerà a parlare dagli studi televisivi di Sport Italia del campionato italiano di Formula 4 che ha celebrato il terzo round stagionale presso il tracciato Enzo e Dino Ferrari di Imola dove ben 30 agguerritissimi drivers si sono sfidati tra un meteo che ha fatto un po' i capricci tra i driver presenti, che ricordiamo provenienti da tutto il mondo tra le fila della prema anche il figlio dell'ex campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher, Mick Schumacher, appunto che ha fatto molto molto bene lo scopriremo nel corso di questa trasmissione è stato un weekend caratterizzato da un meteo che ha fatto i capricci come detto dal caldo e bellissimo sole del sabato si è passati all'acqua e a delle temperature autunnali della domenica tutto questo ha messo a dura prova sia il lavoro dei team che di tutti i piloti che hanno dovuto trovare il giusto feeling con il tracciato e la propria vettura le nostre telecamere di go-kart tv vi racconteranno nel dettaglio tutto il weekend romagnolo dove i nostri obiettivi ancora una volta erano puntati sul team BVM e Foco Racing Team e i propri drivers Lorenzo Colombo e l'indiano Cush Maimi ma prima di andare a vedere come sono andate le cose per loro gustiamoci questa bella videoclip introduttiva grazie a tutti ciao 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 bottino quasi pieno per BVM e Foco Racing Team con doppi podi a Dimola nonostante un weekend caratterizzato dalle safety card e bandiere rosse dove non ci sono state molte opportunità di migliorare le sessioni di qualifica BVM e Foco Racing Team agguantano quanto già mostrato durante i test collettivi qui a Dimola con un'impressionante performance di entrambi i piloti Lorenzo Colombo piazza un grande quinto miglior tempo in entrambe le qualifiche molto vicino alla pole position e durante tutte e tre le gare fa un ottimo lavoro in gara 1 taglia il traguardo in quinta posizione assoluta dopo essere stato a lungo al quarto posto sempre molto vicino ai leader è suo il podio più alto nella speciale classifica riservata ai rookie noi di Igo Car TV subito dopo gara 1 proprio sul podio del tracciato romagnolo abbiamo sentito il velocissimo Lorenzo Colombo tornando un po' deluso dal weekend che abbiamo fatto ad Adria perché abbiamo riscontrato dei problemi tecnici sulla vettura siamo presentati qua a Dimola nel test che andavamo molto veloci avevamo più o meno lo stesso passo di quelli che avevo davanti come vincitore di gara 1 di adesso Marco Siebert e niente mi sono presentato quella gara ho fatto due belle qualifiche sia qualifica 1 che qualifica 2 mi sono piazzato al quinto posto e oggi alla prima gara non potevo andare meglio perché mi sono classificato quinto e ho vinto il rookie, cioè sono arrivato primo nella classifica rookie e ora vi parleremo ancora di gara 1 raccontandovi come sono andate le cose per Cush Maini ma prima qualche secondo di pubblicità MECOMER, azienda leader nel settore dello sbaltimento dei rifiuti industriali da oltre 50 anni al servizio delle imprese www.mecomer.it Nini Virta velocità, sicurezza, flessibilità, affidabilità ma non solo, anche tanta, tanta attenzione alle vostre merci con la garanzia di utilizzo del partner più adatto al vostro business nei paesi scandinavi e in tutto il mondo Nini Virta via camion, via mare, in aereo e un vasto parco mezzi adattabili a tutte le vostre esigenze operazioni doganali in sede personale, altamente qualificato Nini Virta dal 2007 i primi in Italia a gestire il magazzino con etichette in radiofrequenza per controllare costantemente le vostre merci come avere in pista radiobox a bordo per vincere non basta essere veloci ma bisogna essere precisi ed affidabili e noi lo sappiamo Nini Virta vincenti insieme a voi Cucmaini un attimo attardato nelle qualifiche coglie il massimo durante i pochi giri fatti senza safety car nella prima gara conquista una buonissima nona piazza totale andando a festeggiare sul podio accanto al suo compagno di squadra una doppietta tutta autografata BWM Foco Racing Team nella classifica assoluta di gara 1 caratterizzata da due ingressi della safety car e conclusa con la bandiera rossa al giro 11 dietro all'argentino Siebert chiudono Mick Schumacher e Job Van Houter in questa gara 1 tanto spavento per Federico Malvestiti che è stato autore di uno spettacolare cappottamento fortunatamente per il driver del team Antonelli nessuna conseguenza fisica e dopo queste spettacolari immagini sentiamo Cushmaini dopo gara 1 buona perché è partito tredicesimo è arrivato nonno è finito secondo rookie sicuro possibile migliore perché è velocissimo questa pista ma in qualificazione c'è traffico allora non è possibile fare una buona posizione ma in testa il campionato del rookie è questo buona da 20 punti allora contento in gara 2 svolta in condizioni di pista wet Lorenzo Colombo taglia nuovamente la bandiera scacchi in quinta piazza assoluta dimostrando di andare molto forte sia in condizioni di pista asciutta che bagnata il veloce pilota di Legnano fa suo nuovamente il gradino più alto del podio nella classifica riservata ai rookie queste le sue parole al termine di gara 2 una bellissima gara 2 ad Imola che ho appena fatto ed è stata una gara un po' difficile per tutti perché essendo la pista bagnata ed è stata la mia prima volta qua ad Imola con il bagnato sono riuscito a tenere il passo delle persone che avevo davanti e in qualche caso potevo anche approfittarne però piano piano con l'esperienza riuscirò poi a superarli e niente questa gara è andata molto bene perché mi sono classificato prima ancora una volta nella classifica rookie e speriamo adesso nella terza gara di fare lo stesso risultato Ragazzi ma quanto è andato forte l'italiano di casa BVM e Foco Racing Team ora si parlerà del suo compagno di squadra e di gara 2 Formula 4 Imola subito al termine del nostro secondo break pubblicitario Besco leader da 40 anni nel settore della carpenteria meccanica progetta e costruisce strutture per oil e gas realizza parti di meccaniche destinate al settore del converting produce e vende in tutto il mondo carrelli alza bobine e magazzini portarulli secondo le norme ISO 9001 ISO 3834 N1090 l'azienda nel tempo è cresciuta diventando una moderna e strutturata realtà industriale grazie ai continui investimenti in attrezzature e macchinari la società offre ai propri clienti prodotti e servizi con elevati standard qualitativi www.besco.it Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebrezza di una vettura da corsa il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg vuoi stupire? regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista per informazioni www.iltuosogninpista.it L'indiano di casa BVM Foco Racing Team in questa gara 2 lotta come un leone tra le insidiose e bagnate curve del tracciato romagnolo Kusch chiude la gara in dodicesima posizione andando comunque a conquistare la terza piazza nella classifica rookie e facendo guadagnare al team capitanato da Mazzotti altri importantissimi punti gara 2 parte sotto una pioggia battente il regime di safety car e si chiude con la bandiera rossa al nono giro vince Mick Schumacher secondo Marcos Siebert e John Van Houtter sentiamo Kusch Maini al termine dell'intervista dell'indiano di casa BVM Foco Racing Team avremo il piacere di avere ai nostri microfoni proprio Giuseppe Colombo patron di casa Foco Racing Team che ci farà un bilancio su questo inizio di weekend secondo gara c'è solo due giri di gara perché c'è safety car e tutto così allora non è una gara finito dodicesimo ma terzo rookie e adesso c'è l'ultima gara di questa settimana che per me è andato buona testa in campionato del rookie da 20 punti e in questa gara voglio fare un altro podio del rookie è una prima auto in totale e questo per me è un buon risultato e sì speriamo sono Giuseppe Colombo sono il titolare del Foco Racing Team che ha fatto un accordo quest'anno con BVM Racing per portare due rookie Colombo e Maini nel campionato Formula 4 dove Colombo ha vinto il supercorso e Maini ritengo sia un ottimo rookie per poter fare molto bene oggi qui a Dimola stiamo andando veramente bene smussati gli angoli delle prime due gare con anche dei problemi tecnici abbastanza importanti oggi risolti penso che faremo bene anche nelle prossime gare attualmente i nostri piloti sono Maini primo in campionato rookie e Colombo secondo non stiamo facendo programmi a medio e lungo termine è chiaro che l'obiettivo non è quello di iniziare quest'anno e finire anche perché l'investimento delle persone del team non va finalizzato solo a una singola competizione o a un singolo campionato lo staff sta lavorando molto bene i ragazzi sono veramente presenti pronti appassionati BWM ha un know-how e un'esperienza molto alta e ritengo anche che abbiamo dei buoni ingegneri di telemetria abbiamo Marco Apicella ex pilota di Formula 1 come coach driver io ho cercato insieme a Giuseppe Mazzotti di fare il massimo possibile stiamo anche lì cercando di evolverci per migliorare ulteriormente diciamo per bruciare un po' le tappe su l'acquisizione dei dati delle vetture e insomma penso che i risultati quando uno si applica in questo modo vengano speriamo che tutto proceda secondo i piani previsti e forza ragazzi perché è qui ed una veramente l'ultima gara del fine settimana a Imola viene disputato dagli oltre 30 drivers della Formula 4 in condizioni di pista intermedia in gara 3 altro podio per Lorenzo Colombo e Cush Maini del team BVM Foco Racing Team che chiudono così un weekend straordinario la corsa è stata interrotta prima da una bandiera rossa per i molti contatti che si sono verificati ora amici di Gocard TV vi andiamo a leggere proprio la classifica assoluta di campionato riservata ai rookie dove troviamo in testa il driver appunto del team BVM Racing e Foco Racing Team Cush Maini con 120 punti virgola 5 seconda piazza per Simone Cunati a quota 113 virgola 5 e terza posizione quindi con una grande rimonta dopo quel di Misano e Adria da parte proprio dell'assoluto protagonista per quanto riguarda la classifica riservata ai rookie Lorenzo Colombo che va a quota 111 punti virgola 5 quindi questi tre driver sicuramente nelle prossime tappe si potranno giocare questo ambito titolo ora amici di Gocard TV ma anche di All Race TV rimanete incollati con noi perché oggi si parlerà in All Race TV grazie alla rubrica Rally Dreamer di Rally e Mirko Tognarini Giulia Boscolo e Fausto Livi insieme a Massimiliano Bosi stanno già scalpitando www.facebook.com slash gocar tv o Race TV per rimanere sempre sulle nostre frequenze mettete un bel mi piace mi raccomando rimanete con noi tanto Rally tra qualche secondo questo programma è stato offerto da gocar tv.com collegatevi parola di Oriano uscito da Sboroni grazie a tutti